Siamo ormai vicini alla Santa Pasqua, quindi ci sembra opportuno fare delle piccole riflessioni insieme a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone. La Pasqua appunto di resurrezione alle porte è ovviamente preceduta dalla morte di Gesù. Qui a Catanzaro viene ricordata, rappresentata in una processione molto importante che è l'anaca, espressione della pietà popolare. La tradizione si mescola alla fede, ma quanta tradizione è rimasta nella naca e quanta fede c'è ancora da parte della gente? Innanzitutto il mio grazie a Catanzaro Informa che per la prima volta viene qui a casa ad intervistarmi. Faccio tanti auguri di ottimo servizio giornalistico e che possiate avere successo e trasmettere sempre valori belli alla nostra bella Catanzaro. Quanto alla naca, innanzitutto l'aspetto più bello per me è questo, il vedere tanta gente che spesso non vede durante l'arco dell'anno, anche di fuori, assistere o partecipare camminando con molto raccoglimento e molto silenzio. È l'insegno che il Cristo, anche da chi non è creduto il figlio di Dio, colpisce, attira, pone domande, pone interrogativi sul senso della vita, sul valore della morte, della crocifissione di Cristo e della sua risurrezione. Quindi voglio pensare alla naca, voglio ritenere la naca come un momento religioso, di grande riflessione generale e di questo voglio ringraziare sia Catanzarese, sia coloro i quali vi partecipano e ringraziare anche coloro i quali ogni anno preparano appunto la culla dove viene messo il crocifisso e le maestranze, i vigili che portano in processione, i fedeli, i sacerdoti. Dall'altro lato mi piace dire un'altra cosa che riguarda la naca. Vorrei dire a tutti i catanzaresi, ma non solo a loro, non fermatevi al venerdì santo, non fermatevi al silenzioso raccoglimento che ci fa pensare e riflettere sulla morte di Cristo. Dobbiamo arrivare a sabato ma soprattutto alla domenica di risurrezione. Il cristianesimo ha senso se crediamo che Cristo è risorto, è lo spartiacque, è lì che poggia la nostra speranza, è lì che troviamo il senso della nostra vita. Allora la naca diventa una preparazione, diventa una predisposizione. La naca può dare ad ogni uomo la possibilità di dire perché il dolore, perché la sofferenza e guardando il crocifisso, guardando il Cristo, può trovare le risposte a queste interrogative esistenziali di sempre. In effetti nel tempo questa processione, così antica e un po' cambiata, non solo per l'organizzazione, ma proprio per il modo di approcciare del fedele che appunto si approccia a questo evento che poi alla fine, come diceva, è un importantissimo momento di spiritualità. Si approccia in maniera molto meno con fede e con meno pathos. Abbiamo, a mio avviso, due aspetti. Da un lato lei ha fatto riferimento, una volta era diversa, Monsignor Fiorentini diede un ordine nel 1937, dicendo che ogni anno partiva da una delle quattro chiese, Carmine, Rosario, San Giovanni o l'Immacolata, mentre prima uscivano quattro processioni praticamente, con gare più o meno cristiane, più o meno religiose, tra le quattro confraternite. Quindi già questo, e nel tempo, ha dato il senso di maggiore religiosità, maggiore fede, togliendo questa gara, chiamiamola tra le confraternite, a chi doveva essere la prima, l'ultima o meno. Siamo tutti quanti imitatori di Cristo, a seguito di Cristo. Quindi cediamo, mettiamo da parte i limiti umani, i difetti umani e facciamo prevalere la nostra fede. Dall'altro lato, in un mondo in cui, anche nella nostra Catanzaro, l'individualismo, l'indifferentismo, il relativismo, potrei continuare con tanti ismi, sembra che dominino il venerdì santo, tutti questi ismi sembra che cedono il posto al silenzio, al raccoglimento e alla partecipazione. Certo, alcuni sono semplici spettatori, altri sono attori, altri vivono con intensità la processione. È la Domenica delle Palme, se mi permette, o il venerdì santo che si ripete. C'è chi vive fino in fondo, c'è chi lo vive da spettatore. Ma Cristo non impone nulla, la Chiesa non impone nulla. sta a noi sapere leggere, anche attraverso una processione, il senso profondo della figura di Cristo. Lasciarci attrarre, rifletterci sopra e seguirlo. O continuare ad essere semplici spettatori, curiosi, senza che quel messaggio e quella vita incidano nella nostra vita. voglio sperare che chi partecipa alla NACA abbia qualcosa ancora da ricevere, da interiorizzare del messaggio di Cristo. Se potesse suggerire un modo per riscoprire Dio a quelle persone che si sentono abbandonate, che si sentono prive di speranza, che hanno perso i valori umani, etici, morali, oltre che, prima di tutto, oltre che religiosi, cosa si senti dire a queste persone? Accostarsi a Cristo con umiltà, leggere i Vangeli, comprenderli, interiorizzarli e lasciarsi guidare dal Maestro dei Maestri che parla attraverso la sua vita e i Vangeli che ci ha lasciato. e tutti gli uomini ci poniamo la domanda che senso ha la mia vita? Verso dove va? Verso dove vado? Come finisce la mia vita? A questi interrogativi la risposta che dà Cristo, per usare un'espressione di Pascal, le ragioni per credere a Cristo sono di gran lunga superiori e più convincenti di quelle che tutti i filosofi insieme hanno cercato di dare. Ecco allora, dico allo sfiduciato, fidati di Cristo. Fidati anche di chi annuncia Cristo, anche se non è degno, anche se non è all'altezza di farlo adeguatamente, come potrei essere io. Io mi fido di Cristo, ho giocato la mia vita su Cristo e intendo spenderla fino in fondo per Cristo, perché Cristo non è un mito, non è una parola, non è una figura vana, non è una parola vana, è una persona, anzi è il figlio di Dio che venendo ha voluto dare un senso alla vita degli uomini, soprattutto ha voluto dire agli uomini io vi ho amato, adesso amatemi e amatevi tra di voi. La vita di tutti è piena di difficoltà, quindi potrei potremmo dire che ognuno ha la sua croce, se potesse spiegarci meglio il simbolo della croce per ciascuna persona, perché Gesù ha avuto la sua croce ma anche ciascun essere umano. Nessuno di noi ha una croce più pesante di quella che può portare, di questo dobbiamo convincercene. Le croci che ognuno di noi porta spesso siamo noi stessi a costruircene, siamo noi stessi con i nostri errori, mi permetta di dire, di usare una parola che sembra ormai desueta e quasi abbiamo paura a dirla, i nostri peccati sono la misura della nostra giovinezza o della nostra vecchiaia, sono la misura della nostra limpidezza d'animo o del nostro affuscamento di vita. non dobbiamo assolutamente lasciarci prendere dallo scoraggiamento o direi anche nel momento più pesante che può essere la morte di un congiunto, che può essere la scoperta di una malattia. anche in quel momento io dico a me prima ancora che dire agli altri che quello che ho fatto io nella mia vita e che continuo a fare e che vorrei offrire la mia esperienza agli altri io guardo il crucifisso lì trovo tutte le risposte Cristo non è venuto a salvarci con la sua potenza ma facendosi debole, fragile facendosi il nostro compagno di viaggio ed è presente io lo avverto e vorrei che lo avvertissero tutte le persone che soffrono vorrei che lo avvertissero le persone ammalate questa è la fede vera questa è la fede forte questa è la fede che ci fa andare oltre il sentire umano le miserie umane le fragilità umane ma questa è una fede ben radicata non è una fede astratta aerea insignificante è una fede vera Cristo c'è mi è presente permette la mia sofferenza forse che mi sono causata io stesso col mio modo smodato di vivere con le mie cattiverie adesso rioffro a Lui e unisco alle sue sofferenze le mie per il bene mio in quest'ottica allora la mia croce non sarà mai più pesante di quella degli altri convinto come sono che le croci anche quelle che io mi procuro il Signore cerca di non darme le più pesante di quelle che io possa portare quindi dalla morte e la resurrezione che dovrebbe accompagnare la vita di ciascuno di noi il suo augurio per una buona Pasqua ai nostri telespettatori l'augurio che voglio fare è questo in questa vita si va di inizio in inizio fino a quando non sarà l'ultimo inizio senza tramonto quando ci saremo chiamati a miglior vita Pasqua significa passaggio una frase del Beato Cardinale Newman protestante poi convertitosi tanto amato da Papa Benedetto al punto che lo ha beatificato diceva che vivere è cambiare e più perfetti cambiano spesso io ricordando di una frase di un altro autore che si chiamava P.T. Grille il vero nome era un pseudonimo non lo ricordo diceva che solo i milionari dell'intelligenza cambiano che si accorgono di sbagliare e migliorano ecco vorrei che per tutti coloro i quali mi ascoltano per i veri credenti per i veri uomini anche non credenti la Pasqua segnasse un passaggio nel meglio Dante inizia dicendo incipit vita nuova ecco un passaggio di vita verso il bene non il bene egoistico personale ma il bene comune un passaggio dalla non rettitudine alla rettitudine dalla non coerenza alla coerenza dal meno bene al bene dalla incapacità di perdonare al perdono dalla incapacità di essere un uomo vero a essere uomo vero con la U maiuscolo con la schiena dritta ad essere coerenti con ciò che crediamo con ciò che ci sforziamo di vivere e in quanto credenti essere credenti coerenti per essere credibili questo è l'augurio più bello che voglio fare che la Pasqua cioè segni un passo avanti per ognuno di noi è il più bell'augurio che posso fare se posso utilizzare un'immagine ancora più significativa Gesù nel celebrare l'Eucaristia è salito da Piantarena al primo piano ecco saliamo un piano verso il Signore e questo è l'augurio più bello di speranza di fiducia allora la parola speranza fiducia non sono solo parole vane ma diventano il segno posso essere migliore posso essere capace di fare qualcosa di più e di meglio posso seminare nel cuore degli altri qualcosa di buono partendo da me senza pretenderlo dagli altri ma offrendolo io in questo senso allora il mio augurio di buona Pasqua che è rivolto a tutti sia i più poveri sia i meno poveri sia i più ricchi perché tutti abbiamo bisogno abbiamo bisogno di Dio tutti siamo immensamente poveri di Dio la Pasqua viene a ricordarcelo ci sono io sono risorto sono con te vuoi seguirmi vuoi seguire il mio messaggio vuoi seguire le mie parole di vita eterna fallo ecco la Pasqua ritorna in questo caso in quest'anno la celebriamo proprio all'inizio della primavera possa essere una primavera dello spirito per tutti quanti auguri grazie su eccellenza va bene direi grazie